e la pappa appoggiamoli qui sul sedile è vero il mio darsi che stagliano pure per loro due vai amore vai con i tuoi bambini vai lui è il maschietto qua stanno i cuccioli ma la mamma non si vede cioè hanno organizzato questa struttura ma stanno in mezzo alla strada questa è una strada sono dell'abitazione vicino cucciolotti ciao ciao cucciolotti ciao 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 Grazie.